Ciao a tutti, nell'altro video ho parlato della rivoluzione russa, ho parlato dell'URSS, ho parlato dei soviet, ho parlato degli anni di Stalin, di Khrushchev, di Brezhnev, ho parlato degli anni diciamo 60, 50, 70 e i primi anni 80, ho raccontato un po' di storia dell'Unione Sovietica, ho raccontato un po' di com'era la vita delle persone a quei tempi e in questo video ho deciso di parlare di perestroika, è una delle parole più famose in Italia in lingua russa, perestroika la conoscono tutti, è degli anni più difficili secondo me per russi e soprattutto gli anni moderni per la Russia, non come già URSS ma come federazione russa e il periodo più difficile erano gli anni 90, gli anni 90 e perestroika, questo è l'argomento di questo video. Fatemi sapere che tipo di video volete vedere successivamente, se volete sapere qualcosa degli altri anni della Russia in particolare, in specifico qualcosa un po' più avanti, magari di storia moderna, fatemi sapere le vostre idee. Il termine perestroika in russo si dice sempre perestroika, si traduce come ricostruzione, indica un complesso di riforme avviate nella dirigenza dell'Unione Sovietica a metà degli anni 80, finalizzate alla riorganizzazione delle economie e della struttura politica e sociale del paese. Gli interventi erano volti all'instaurazione di un cosiddetto stato di diritto socialista e ad un rinnovamento che non rinnegasse i valori fondamentali della società sovietica, a seguito dei profondi cambiamenti apportati al sistema. Tuttavia il corso degli eventi andò fuori controllo e condusse alla dissoluzione dell'Unione Sovietica. L'obiettivo delle riforme era la democratizzazione globale del sistema socio-politico-economico che si era sviluppato nell'URSS. I piani per le riforme economiche sono stati sviluppati nell'83-84 sulle istruzioni del segretario generale del comitato centrale KPSS Yuri Andropov e qui già si vede che negli anni 80, i primi anni 80, 83-84 già qui inizia ricostruzione, inizia la perestroica, inizia il cambiamento globale, già qui inizia. Per la prima volta la necessità di migliorare il sistema economico esistente, la cosiddetta accelerazione è stata proclamata dal segretario generale del comitato centrale Mikhail Gorbachev in un comitato centrale del KPSS, il 23 aprile 1985. Tuttavia queste misure riguardavano solo l'economia, erano per lo più amministrativi e non influenzarono l'essenza del socialismo sviluppato. La riforma cardinale dell'intero sistema, compresi i cambiamenti politici, è iniziata nel gennaio del 1987, quando nel comitato centrale del KPSS la ristrutturazione è stata dichiarata una nuova ideologia statale. Il 15-17 maggio 1985 il segretario generale del comitato centrale di KPSS, Gorbachev, si ricò a Leningrado dove in una riunione con le attiviste del comitato del Partito Comunista ha parlato per la prima volta della necessità di ristrutturare la vita sociale e politica. E' chiaramente padre della perestroica, lo dicono tutti, sempre è Gorbachev. Gorbachev ha governato anche poco alla fine e da sempre tutti gli italiani pensano che i russi adorano Gorbachev, che li ha portati alla democrazia, che ha fatto dissoluzioni delle repubbliche, eccetera, ma non è così. Molte e poche persone che conosco a cui piace Gorbachev, Gorbachev non piace a nessuno in Russia e non si sente parlare di mai più di tanto in realtà. E la sua frase era, quando lui è subentrato proprio a Leningrado, quando lui è andato a parlare della necessità di ristrutturare la vita sociale e politica, ha detto a quanto pare, compagni, tutti dobbiamo ricostruirsi, tutti. Ha detto questa frase qui, che già qui lui già pensava alla ristrutturazione e ricostruzione, perché il socialismo come era, prima non funzionava più. La parola è stata raccolta dai media e divenne lo slogan di una nuova era che era iniziata nell'Unione Sovietica. L'inizio delle riforme è su vasta scala dell'URSS e di solito associato al 1985, quando il partito e lo Stato è stato diretto da Gorbachev. Nel frattempo alcuni autori chiamano il padre della perestroica Andropov, altri distinguono il periodo embrionale di perestroica, non senza ragione credendo che nella prima metà degli anni 80 l'URSS stava gradualmente entrato nella fase di riforma. Il processo di trasformazione stava già avviando nel novembre dell'82 da Andropov. Nel marzo dell'85 Mikhail Gorbachev è diventato segretario generale del comitato centrale del KPSS, del partito comunista. Infatti tanti sostengono che proprio il fondatore e quello che ha creato, ha fondato questa idea, non era Gorbachev ma era Andropov, già negli anni 80. E Gorbachev ha preso questa idea, l'ha accolta e l'ha sviluppata e l'ha portata a un termine, al termine proprio di perestroica e di cambiamento. Nel 1989 si sono tenute le elezioni dei diputati dei Soviet, le prime elezioni dell'autorità suprema dell'URSS, in cui gli elettori hanno avuto la possibilità di scegliere tra diversi candidati e fare la campagna elettorale. Quindi già qui il primo passo. Si inizia a fare le elezioni, campagna elettorale, si può scegliere tra i vari candidati. 12 giugno del 1990 è stata adottata la legge dell'URSS sulla stampa e sugli altri mesi di comunicazione, ha proibito la censura e la libertà garantita per i media. Il processo di sovranità della Russia ha portato all'adozione, il primo novembre del 1990, il decreto sulla sovranità economica della Russia. Sovranità economica della Russia, di conseguenza, inizia la dissoluzione dell'Unione Sovietica, iniziano a uscire le repubbliche. Le repubbliche diventano sovrane. Erano 15 repubbliche, guardiamo quali sono. Era Azerbaijan, adesso diciamo moderni stati quali sono. Azerbaijan, Armenia, Belarusia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Lettonia, Lituania, Moldavia, Tajikistan, Moldavia, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Estonia e Russia. Chiaramente, quello diciamo la divisione. E le repubbliche autonome rimangono, come Tatarstan, come Cicene, eccetera. Quelle repubbliche rimangono. E qui iniziano gli anni 90 e diciamo che vediamo cosa cambia, cosa comporta, cosa sta succedendo. La prima cosa che comportano è il nazionalismo e il separatismo. E la prima cosa grave che succede è la prima cosa diciamo brutta. La prima cosa, ci sono subito gli scontri tra gli stati, tra i ex stati, perché i territori erano suddivisi, loro non erano magari d'accordo. Armenia e Azerbaijan, c'è il conflitto. Georgia e Ossetia del sud, c'è il conflitto. Maldavia e Prednistrovia. Anche lì è stato un discorso molto importante. Maldavia e Prednistrovia c'era proprio un vero proprio separatismo nazionalismo. E i paesi baltici, anche lì vanno un po' in conflitto tra loro. Tutti uniti, cittadini dell'URSS, tutto insieme, tutto va a gonfie vele, tutte unite, unico popolo, unico paese, unica patria. In un giorno tutti diventano sovrane. Io tra l'altro ho fatto il video URSS e le Repubbliche Sovietiche, lì ho un po' parlato di come, perché, cos'è, potete guardarlo quel video lì. Guardiamo cosa cambia. La prima cosa che cambia è rinnovo delle riabilitazioni delle vittime dello stalinismo. Quindi, diciamo, parliamo sempre di destalinizzazione, un po' del togliere quelle vecchie abitudini, riabilitazione delle vittime che hanno sofferto. 6 novembre del 91, vietato in Russia il Partito Comunista. KPSS, Comunistica Partita Sovietica Saiusa, diventa vietata. Democrazia. Parliamo di democrazia. Quali cambiamenti democratici sono arrivati? Parziale libertà di parola, pubblicità, abolizione della censura. Pluralismo dei pareri. Introduzione del pluralismo elettorale e l'abolizione del sistema monopartito. Facilitazione dell'ingresso e uscita all'estero, incluse migrazione e contatti con gli stranieri. La risoluzione dell'imprenditoria privata, il movimento delle cooperative e la proprietà privata. Maggio 89, Gorbaciov ha emesso un decreto secondo cui gli studenti non dovevano più iscriversi nell'esercito e fare la leva, quindi rimanevano in università. Ritardi nella circolazione legale delle armi, abolizione del perseguimento penale per la sodomia. Economia interna. Sempre un po' di cose che fa Gorbaciov. Economia interna. Campagna antialcolica. Sukhoi zakon in russo si chiamava, che non si poteva bere, non si poteva vendere alcolici e di conseguenza le persone della disperazione hanno iniziato a farli da soli in casa, illegalmente, ed è andato molto peggio del previsto perché tutti poi a un certo punto chiaramente prendevano intossicazione perché combinavano di tutto e di più. Campagna antialcolica, che non è stata una bella cosa, tra 85 e 87, distribuzione delle cooperative e successivamente introduzione della libera impresa, scioperi nelle miniere dell'89, riforma monetaria 91, iperinflazione, si alzano subito i prezzi, riduzione delle riserve d'oro del paese, quindi tutto si riduce, il calo della crescita economica e recessione poi dopo, il declino, la svalutazione della valuta nazionale del rublo al dollaro, erano 90 rubli per dollaro degli Stati Uniti, aumento del debito estero di almeno tre volte, quindi niente di bello insomma. 10 luglio del 91, Boris Yeltsin ha preso il giuramento della fedeltà al popolo russo e alla costituzione russa e ha preso la carica del presidente del RSFSR. E qui si inizia con gli anni 90, c'è la guerra in Cicenia, c'erano state due o tre guerre di Cicenia, un momento molto instabile, negli anni 90 l'economia russa ha sperimentato una profonda recessione accompagnata da un aumento dell'inflazione, un caldo degli investimenti, un aumento del debito estero, un'economia del baratto, una diminuzione dei redditi e delle famiglie, molti altri fenomeni negativi. Durante questo periodo sono state realizzate numerosissime riforme economiche, tra cui la liberalizzazione dei prezzi, del commercio estero, la privatizzazione di massa. Gli anni 90 in russo venivano chiamate le chie divinoste, le chie divinoste vuol dire le chie pazze 90, pazze proprio, sfascio più totale, non dell'economia o di chissà che cosa, lo sfascio della società, perché tutti si rilassano e tutti capiscono che da ora si può fare di tutto e di più, non c'è restrizione, non c'è niente, è una cosa chiaramente positiva, c'è la libertà di tutto, ma in alcuni casi si vede che non sempre porta solo cose positive. Per tutti i russi, penso tutti quanti, gli anni 90 erano un periodo più difficile. Praticamente controllo e protezione dello Stato sulle persone non c'è più e le persone ognuno deve pensare per sé. Non c'è più la possibilità, la certezza di avere una casa, una macchina, un qualcosa, una famiglia, uno stipendio, un lavoro, non c'è più, ognuno per sé, ognuno per sé, lo Stato non entra più, la privatizzazione di tutto. Le persone che erano discriminate dalla società, che magari bevevano o non volevano lavorare, erano sempre discriminate dalla società e erano costrette a lavorare. Nel 90 si rilassano e di conseguenza non vengono più a lavorare, bevano, fumano, ci sono ladri, ammazzano, fanno di tutto e di più. Tantissime, tantissime, tantissime persone sono andate via in quel periodo lì, perché chiaramente le frontiere sono state aperte, tanti russi sono immigrati, chi do, chi dove è immigrato. E poi però non tanti, perché solo quelli che avevano soldi, perché lo scambio, a parte il discorso che non c'erano soldi, nessuno non aveva soldi, così tanti da trasferirsi e comprarsi una casa all'estero, quindi pochissime russi emigravano, quelli che emigravano erano ricchi, super ricchi. C'era un piccolo gruppo di persone che negli anni 90 si sono molto arricchite, diciamo, nuovi russi e oligarchi, che hanno investito bene tutto quello che avevano, hanno fatto degli investimenti furbi, chi nel petrolio, chi nel legno, chi nella industria, chi dove, chi è entrato nel discorso del petrolio, gas, eccetera, eccetera, e si sono molto arricchite e a quest'ora hanno di tutto e di più. Tanti poi sono rimasti in Russia, tanti sono arricchiti e sono andati via fuori dalla Russia. È iniziato un po' di chi ruba di più, chi prende di più, chi ruba di più, chiaramente il governo lì, chi può più prendere e chi ne prende, nel senso che prendi tutto quello che ti pare, non c'è più controllo, nessuno non ti controlla. Perché devi avere lo stipendio di 3.000 rubli per esempio un parlamentario se può avere 30.000 rubli per dire? Qui inizia tutto un discorso che è democratico delle cose, iperinflazione, le persone si ritrovano senza prodotti, senza niente, l'URSS non produce più, le fabbriche chiudono, dice perché se possiamo esportare dall'estero, dalla Cina, dalla Turchia, i tessuti, i tessili, ok, perché dobbiamo farlo da noi, se si può esportare, importare tutto? Insomma per far girare economia lo facevano chiaramente, per attrarre investimenti esteri, ma già la situazione era talmente brutta che neanche all'estero non lo voleva nessuno, chiaramente, nessuno dall'estero dice ah, ora sono aperte le frontiere, ci sono state alcune persone sì che hanno investito, ma pochissimo, nessuno non voleva investire lì, perché nessuno non sapeva cosa sta succedendo e a cosa poteva anche portare questo cambiamento. Quando c'è stata la caduta dell'URSS le persone piangevano, davvero, le persone piangevano perché pensavano è finita, cioè che succederà non si sa, nessuno non era così felice da dire, tutti pensavano, boh, nessuno sapeva come finirà e a cosa si andrà incontro, perché chiaramente tutta questa parte di popolazione, tutta questa fette di popolazione non ha mai visto questa vita, diciamo, perché quando nasci in un paese così, tu pensi che questo è normale, così si vive e invece si si apre tutto, diciamo, tutto un mondo così da un giorno all'altro e non sai come gestire tutto questo e non tutti infatti hanno saputo gestire la situazione. Default nel 1998 situazione difficile, gli investimenti esteri non arrivano, tanti chiedono aiuto allo Stato, tutti non sapevano dove investire, dove mettere soldi, banche nascano, nuove strutture, nessuno non sa come cosa fare. Diciamo che nei negozi non c'era niente, non c'era il mangiare, c'era la fame, morte anche dalla fame ci sono stati, ci sono stati tanti guadagni criminali, guadagni illegali, guadagnati soldi guadagnati illegalmente, soldi sporchi, per mesi non pagavano lo stipendio, 6-7 mesi non pagavano lo stipendio, negli anni 90 erano veramente massacranti per tutti e soprattutto i giovani o chi avevano bambini piccoli o chi aveva famiglia perché non pagavano per 6-7 mesi gli stipendi. Non c'era niente da mangiare e c'erano i prezzi esorbitanti, veramente alti, altissimi prezzi, default, nel 98 c'è stato il default, tanti mi chiedono se i russi sono nostalgici o no, tantissimi russi, voi sapete, mi avete scritto anche voi, tantissimi russi, soprattutto magari persone un po' più in età, magari un po' più anziane, sono molto nostalgici dell'URSS, perché? Guardiamo perché, guardiamo quante cose positive ha portato la libertà. La libertà ha portato, per esempio, porno, piramidi finanziarie, prostituzione, skinhead, terrorismo, separatismo, pubblicità, banditismo, banditismo criminale, criminali, nuove russi ricche, disoccupazione, calo economico, iperinflazione, droga disponibile, killer, stalker, maniaci, tantissime persone senza tetto, richiettire, fratellanze e tante altre belle cose. Ha portato libertà. Tanti mesi non c'era stipendio, chiaramente nei negozi c'era la fame, il 31 dicembre del 99 Yeltsin ha annunciato le sue dimissioni come presidente della federazione russa. Nel 99 Yeltsin va via e dal 2000 partano, la Russia riprende un nuovo verso, cambia tutto e diciamo che da lì, da quando poi Yeltsin abdica, diciamo, annuncia le dimissioni, da lì Russia deve cambiare qualcosa. Perché se no, qui uno doveva decidere o abbandonare tutto, di volta, ci si svende a tutti o bisogna cambiare qualcosa. E lì subentra, voi sapete, poi entra Vladimir Vladimir Putin e diventa il capo dello Stato. E lì già è tutto un altro discorso, bisogna fare tutto un altro video a parte. Per questo, diciamo, voi ormai capite un po' di più perché c'è la nostalgia, perché le persone non erano molto d'accordo sul fatto della perestroica, sul governo, sulla libertà. Quando da un momento all'altro ti trovi nella libertà totale e pensi, sì, ora sì, ora posso rubare, avrò la pena, boh, chissà se mi metto in carcere, magari anche no, magari non mi prende nessuno. Qui già polizia diventa nemica, invece che amica diventa nemica. I bambini non li puoi lasciare più fuori così, non puoi lasciare niente fuori. Erichitire erano un gruppo di persone che, un po' tipo mafia italiana, un pochino, penso, Erichitire. Poi Fratellanza, fratello lì, fratellà, sugli anni 90 è un bellissimo film, l'ho già detto sante mille volte, l'ho messo anche su Facebook, credo qualcosa. Brat si chiama, Brat, ci sono due parti, Brat e Brat d'Va, la parte seconda. È un film che rappresenta appieno gli anni 90 in Russia, abbiamo tutta l'ambientazione, come erano vestite le persone, come era la vita, ogni seconda avevo una pistola in mano, avevo paura la sera se ti arrivi a casa o non arrivi a casa, insomma c'è tutto un momento così difficile, tanti suicidi tra gli adolescenti, tanti ragazzi morti per droga soprattutto, perché droga è entrata subito, da quando hanno aperto le frontiere e i confini la droga è entrata, chiaramente. Alcol eccetera eccetera, insomma era tutto lo sfascio più totale dalla società proprio, di grado della società e ognuno per sé è diventato. Prima era tutto un unito, siamo insieme, unica patria, unica bandiera, ora a questo punto degli anni 90 in poi ognuno ha iniziato a pensare un po' per sé. Positivo o negativo non lo so, ci sono stati momenti positivi, ci sono stati momenti negativi, momenti negativi vi ho elencato chiaramente e fatemi sapere voi cosa ne pensate, fatemi sapere cosa ne pensate, altre vostre idee, che video volete vedere successivamente, sempre magari sulla storia, sulla politica, su qualcosa. spero che questo video vi sia stato utile, spero che questo video vi sia piaciuto, vi auguro una buona giornata, spasiba e da svidani.